Trieste, dalle ultime indagini, è risultata la città con maggior numero di scambi tra le medie città italiane e questo effettivamente ci sta aiutando a velocizzare i tempi di vendita. Tanto che a questa velocità di vendita sta corrispondendo una lentezza invece di emissione di nuove offerte immobiliari sul mercato. E questa è la fotografia del mercato immobiliare cittadino secondo lo studio realizzato dalla sezione triestina della Federazione Italiana Mediatori e Agenti di Affari. Un trend positivo che risente del successo riscontrato dalla città quale luogo più attrattivo per stabilirsi secondo un sondaggio del Sole 24 Ore non solo per gli italiani. È naturale che i clienti stranieri ad esempio che provengono dall'Austria vanno a cercare il mare, quindi tutta la fascia della nostra provincia sul mare costiera a partire da Duino per arrivare a Muggia è la più ricercata, ma il centro città piace tantissimo proprio per quanto dicevamo prima tutti sono felici di potersi muovere a piedi con comodità e avere tutto a portata di mano. Tutto ciò è comprensibile, si riversa sulla geografia immobiliare cittadina. Volendo stilare una classifica delle zone di maggior pregio si parte dalla costiera per passare al centro storico e a San Vito mentre risale Chiadino San Luigi. Subito al di fuori del centro storico le Roccaforti dove si va sul sicuro, laddove un lieve affanno lo registra a un'area di solito più apprezzata. Gli immobili di Roiano e di San Giacomo sono sicuramente molto molto richiesti, proprio perché sono dei piccoli paesi all'interno della città, completi di tutto e di tutti i servizi. In questo momento forse sta soffrendo un po' di più il carso triestino perché non è di certo meta di richiesta degli acquirenti stranieri. Uno sguardo infine sulla nuova tipologia di appartamenti che tiene conto di una necessità dettata ancora dalla pandemia. Le famiglie sono composte mediamente da una coppia con un figlio al massimo, oggi c'è la necessità della stanza in più. Quindi sono tornati di grande richiesta gli appartamenti con due o tre camere da letto. Stanno comunque funzionando anche gli appartamenti piccolini perché sono meta di richieste di persone che intendono investire e far funzionare proprio per il mercato turistico.